una nuova attività sportiva preso il via all'elisium sport di agropoli si tratta della ginnastica antalgica corsi di ginnastica dolce in acqua a sollievo di sintomatologie dolorose praticabile il martedì e il venerdì alle ore 16 ciao io sono cristiana e sono la coordinatrice del settore acqua wellness qui all'elisium ad agropoli quest'anno vi proponiamo l'acqua antalgica un percorso di ginnastica dolce in acqua rivolto a tutti voi tutti coloro che hanno la necessità di ritornare in forma sia a seguito di un trauma quindi come intervento post traumatico sia come un ritorno al benessere psicofisico l'acqua antalgica apporta una vasta gamma di benefici sia a livello fisico che relazionale nonché psicologico andiamo a lavorare su un tipo di ginnastica che è a corpo libero ma lo sussidio anche di diverse attrezzature qui presenti nel settore dell'acqua wellness come ad esempio l'utilizzo di manubri tubi ancora step o cavigliere e possiamo dire che i benefici hanno sia un riscontro a livello articolare sia a livello muscolare sia a livello cardiocircolatorio quindi davvero aperta a tutti voi ed eccoci allora non resta che vederci qui all'elisium vi aspettiamo a sperimentare e a provare i nuovi benefici corso di ginnastica antalgica